Questo video è offerto da Subito volevamo ripartire dopo la sconfitta di Juventus Non siamo riusciti perché secondo me la finalizzazione mancava oggi Perché abbiamo creato, poi diventa sempre più duro quando non fai il primo gol Eparma ha chiuso veramente benissimo i spazi E poi alla fine con due o tre ripartenze che hanno fatto hanno chiuso questa strana parte Tutti sono leader, devono essere leader Tutti devono dare il massimo per la squadra perché siamo una buona squadra che vuole migliorare Queste due sconfitte ci devono aiutare a maturare, a pensare in positivo Perché noi non possiamo aspettare a piangere Perché martedì ci aspetta un'altra gara fondamentale che vogliamo fare un gran colpo Allora, il nostro modulo, chi gioca gioca Oggi ho giocato io con Berami Chiaramente noi lavoriamo tantissimo per questa squadra Che proviamo a chiudere questi spazi Poi se abbiamo spazi abbiamo quattro attaccanti, diciamo, fortissimo Che possono fare male davanti E poi se perdiamo pallone dobbiamo, come detto, magari più comunicare Più dire a loro, a esterni, che aiutano di più Così siamo più stretti Ma noi possiamo ancora migliorare tantissimo Il mister ci aiuta E noi dobbiamo pensare adesso e in futuro La nostra prossima gara è Dortmund E vogliamo fare una bella partita Noi non parliamo di queste cose Ogni partita è diversa, ogni partita è difficile Questi episodi succedono Dobbiamo maturare La squadra deve prendere queste sconfitte E non cambia niente Perché adesso serve una squadra forte che reagisce Per noi è un'altra gara martedì E vogliamo dimostrare che possiamo ripartire È un'altra gara